Si è aperta stamattina in Campidoglio a Roma la camera ardente di Sandra Milo, morta ieri all'età di 90 anni. Accanto alla sua foto anche quella di Padre Pio e una madonnina con l'acqua benedetta. I funerali dell'attrice si svolgeranno domani a mezzogiorno nella chiesa degli artisti a Roma. Tante le persone che hanno voluto rendere l'ultimo saluto alla musa di Federico Fellini, tra questi anche il sindaco della capitale Roberto Gualtieri. Roma farà di tutto per ricordarla, perché la sua storia, la sua biografia e il suo passaggio qui sulla Terra, lo meritano.